Sono 72 i nuovi casi di coronavirus accertati negli ultimi tre giorni in Abruzzo. 23 infatti si riferiscono alla giornata di sabato, 36 a quella di domenica e 13 alla giornata odierna. I dati sono stati accorpati perché per questioni tecniche i risultati degli esami di laboratorio sabato e domenica non erano stati elaborati. C'è anche un decesso recente, il terzo in una settimana dopo una tregua di oltre un mese e mezzo. Un 67enne del Terramano con gravi patologie pegresse. Il bilancio delle vittime così sale a quota 475. Crescono in modo significativo gli attualmente positivi che arrivano a 729 ed aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Dei nuovi casi infatti 25 riguardano la provincia di Pescara, 17 quella di Terramo, 14 il Chietino e 11 l'Aquilano. Un nuovo caso riguardo un paziente residente fuori regione mentre per quattro è in corso la verifica sulla provenienza. molti dei contagi si registrano nell'area metropolitana. Sette a Pescara, quattro a Chieti, tre a Francavilla al Mare, due a Spoltore. Quattro nuovi casi ad Alanno, altrettanti all'Aquila e a Giulianova. Tre casi in un paesino di 500 abitanti del Terramano dove già si erano registrati contagi nei giorni scorsi in seguito ad una festa di compleanno. Dei nuovi casi di covid il paziente più giovane ha sei anni ed è di Ortona. Il più anziano ne ha invece 89. Per quanto riguarda gli ospedalizzati sono 58, 5 in terapia intensiva mentre gli altri 676 più 50 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. I guariti sono 21 in più ed arrivano a quota 3.005. Molti i tamponi eseguiti in tre giorni, 3.976. Il totale dei test dell'inizio emergenza invece arriva a quota 186.082. Dei complessivi 4.209 casi abruzzesi da inizio emergenza 595 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 993 in provincia di Chieti, 1805 in provincia di Pescara, 778 in provincia di Teramo e 31 provengono da fuori regione mentre per altri 7 sono in corso le verifiche sulla provenienza.